No, se no andiamo al mare Bene, ah me lo stesso Allora, Yuri, te c'è il fiol là? Allora, me è il fiol a Nello della Vala a Tudrin a Meldola e la Mima invece la chiamava la straniera perché la scureva sempre in italiano e la veniva da Santa Sfia Adesso stasera da sentire qualcosa di giuri Buona lettura Non è una lettura Beh, quello che è A Tudecca, io dè Ah io dè l'appuntamento al 9 di mattina sotto e porca nella piazza, in te bar del canton al Doni Quando hai detto l'importante ha sbagliato un sconto Lei era l'Ainstein 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 aveva consumato a fondo la tastina di caffè a forza di 30 Ha sbagliato un sconto Ha sbagliato un po' di sbagliato e mi sono messo in sbagliato e ho guardato la mano e poi ho guardato oggi come si fa mai quando hai detto che quella di quella di importante a una donna non guarderla mai in te oggi o si intreccia la lingua o si sapeva oggi e non dì mai quel che ti voleva dire hai voleva dire che la colpa lei era l'assurdo no la colpa lei era la mia no hai voleva dire che la colpa lei era del suo marito perché mi l'ha messa tra i bracci lei era venuta la sera in te bar che aveva manca il biglietto in sé e lei ha detto di Mario ascolta un po' ho saputo che te lui vuoi farmi il mio bagno a Romagna eh no ho saputo che vuoi farmi il mio bagno a Romagna e anche la mia moglie lei avrebbe dandè un'altra la potresti so perché non è una gran guidatrice lì lì la guida solo in tal strada di Clacnos lei ha un'amica la Calabrina e la Clos la strada fin tanto all'incrocio dell'autostrada oh quando la va a trovare la parcheggia lì e la va a pefino dalla sua amica fa un stai piace che me 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 non serve che me a dire la verità me un pezziretto per me a dire con la mia pandemia un pezziretto con i finistretti resta di stella quando la calda hai tenso se me un pezziretto mi i redotti li pepera a tutto volum e senti sbidonero me lo tengo perché se te qui cadono ti hai un pezziretto che me mi è un pezziretto per me se voi cantate a squarciagola mi arroggio se sono stunnele di stessa per me ma sono che cadono e poi e se succede chi è con i due amici in te bar che venivano sempre in te bar insieme e avevano un incidente a tamponeone che non scorda più che è quello a fianco che dice che la colpa è quello che guidava perché si è distratto e quello che guidava è un scorpio con cleat perché dice che è l'oculo distratto non scorda più che me mi è un pezziretto per me ho un'alma solitaria e l'on va a mandare un po' l'accione che pu un'algira un'algira finché e fai con te in che te gossi avrà il mai laveva il pesce ma il precoce o gli affini al piedi da quanto la ciusa la sfida uno li fa più che pu da quanto la ciusa la sfida uno li fa più nessuno al piedi ma il zocchio ma come fa a me a me domanda il farà più del petrolio ma il bianco e il petrolio ma quanti spendono che pu un'algira oh putta ma lei è un cazzador ma il cazzador ma il nalgira no perché in chepe d'agosto il cazzador ma io vado a provare che vu una vado a provare che c'era una macchina va a provare e come vale tu che ti rompo da una parte ti provare che come va con un somma neanche una massa con un osse fa quasi due chilometri ma se avete provare che che un te fiscine è un te in te bare ho portato a casa leopoldo secondo eh ho purteca leopoldo secondo figlio di ambrogio primo e cleopatra nipote di fu mattia pascal terzo e margherita di savoia se purteca un re no leon che un che ma è tutto l'albero genealogico di che sì perché è un fiore di un campione da riporto eh da riporto che mi mi so immaginare stessere tutto ple un epil che partisce da qui va fatto tesir da sole che quanto scape facendo e stondola la riporto da sole c'è ma mi so immaginare che c'è un bel da fe che allora partisce con la prova di che poi per settembre tirano torturano qui este è un intervallo che l'amassero una torturana con una collera con un spò e ha fatto la multa e ha fatto bene e deixe dire con barattolini de la copale marron che se dovesse una torturana con le collera lui dar una marron che si roba allora attacca con la torturana poi attacca l'estanziel faxan e lebra un camp per faxan e un camp per la lebra per tene estes un camp si incontra un faxan e le da lebra un laguer da niente che può attacca la passione poi attacca la migratoria dalla mattina al 4 mes blascur in te cabana spie che passa uno sling che ogni tenta gran che non passa niente uno sling e guarda zoma per la tentazione fin nascere ma è so la passione che lè e poi tacca dopo la migratoria la selezione la selezione e cinghiele capriole ma è so la passione che lè e poi vado nota a voi ma io so che per furtana ti so la passione che lei ma quanti ti chi ha a nascere ma comunque gli ho detto sì perché era due un bigliere d'incendio mi calato il sole su mo in fondo tira un po il cul ma gli ho detto sì che può fa fine venire sera un fa dì posso vu che l'un fai a il mo anche te sì ma che te è tutto anche te ho tradito tutto sì ho studiato però mi ha fatto firme 40 mille fuori sulla privacy e poi dice tutto quel che fa bene vabbè quel mattina siamo partiti l'era presto in te bar mi ha pagato il caffè fa finno vabbè so passere a tua la moglie Mario allora so passere da davanti e fuori c'ho osta c'ho osta dina fiu fin ets noc duc alun una borsa non l'aveva mai investe fa fin come la c'hanno la moia di Mario c'hanno perdono un po' non che la si espo gel a partent a s'ampira van la sé fa fin che do and de tru e su parent es de al e poi sono del termine 3 4 d che scurano di più e di mai è una bella donna la bella cera che me la carne cera un piso e un piso e poi un piso perché me quanto mani la carne è un piso e poi la bella cera la carne cera un piso proprio che poi dopo 4 cent siamo la deve so mi scape pure dai fuori alla mattina presto mi dispiaceva quasi adesso da per me pensi che sono solitari che me stai da per me con i bar che la mattina stai so presto a 5 e mezzo che lavora l'anice a ravenna no e allora stai so presto e te con i biscotti perché siccome fa la A46 che arriva a ravenna è tutta una buza e va so elato invece ecco elato un e poi un brusli a me mi pare non mai perché e mi va e stai un'ora dopo che mi arriva caldo cosa maniera venna all'anice cosa maniera e ora maniera prende i paludini che la vede in pietra perché dopo le morte la mia ma ognuno fa cazzo c'è me levo la mi roba lo levano su roba quanto me sono come vieni a bar ma l'ho lezante vieni in bar un cazzo d'amica ma ogni tanto il bar resta i fag di come sta l'amico bar e che l'ho d'amico smettere il momer in migo perché è vero c'è un vecchio locale ne comunque me le mie avventure li ho avuti perché due italiani vabbè però in cinquenne vabbè ognuno fa qualche po e poi la bellezza non è un vabbè e comunque dopo una settimana un deve una macchina da bagno di romagna lei non chiede o a sampir si fa scappé mi ha di lavora ho detto mi guardo un po di lavori e te l'hai pronto secco ma guardo un po santa tanto tanten te l'hai è di una volta che non è fatto un scavito di lavora e se fa scappé entras treta sempre a ser indormenta ostres c'è lei propria bella una fronte un nè altè vabbè più bella bella donna ciò mentre la guerra l'arve si oggi dì te ti hai mai sposato una donna sposata e lì avevano fuori il romagnolo perché io potevo dire hanno avuto due cinque su che pensano erano d'Italia su che ne se no ho fatto fin pensi scolta se no e allora no sposto adesso arriva a quarta lei è una piazzola che quando è la festa a Sant'Agata feita quella delle tartoffe è un fcetto in sti proprio con le corpette e bilanzi con un spacciatore e vendere castagno stanno non era niente ma fico è morto ma comunque non so farmi a lei e poi sono di barbazelle che al cinturio è sicurezza al selva la vita ma siete tutti quelli a partire un cd durante i cassettini siete una donna spugata attire allora sganci sono basile che si sta in cento l'inverno a sapere mil quattro messe che mi ballera sempre dei dottori che non facevo di come era che te tanto la punta me dei dottori sempre mil quattro mese sempre il quattro me di tanto la punta me o che sempre mi fa dom mese le er vite e nostre più tu le finito tracere quanta c'era Dria feffilotto su ri bigliere che ho sentito una razza di un smanervo in la schiena che diceva puttano terremoto è venuto su pote non so dire e e le rive resta una razza di un manone inclaffato hanno spionito per un po' che mai poteva più d'indri in compagni eh che che me non so mica qui a lesi fumetti eh so che loro hanno ragione so stai me che sono tornato la sua moglie l'aveva spuggetta per pranzo e allora dai ho smesso niente bar c'è che fu atto te che gli ho detto e allora io ho detto che era la sera che avevamo finito lì quando hai dì un proprio muso duro l'hai finita eh che dopo mi ricordò me e mi bai fosse dedutore me fosse venuto prima anche se aveva la riunione sindacchiale che lì fosse venuta in bicicletta e che casualmente un temporello estivo di fine estate e che piove che lì era venuta in casa perché aveva perso lì che me ho detto guarda sta qui che piove c'è c'è bagnare sempre l'intelletto meglio detto Maldoni Maldoni ha fatto molto pe grazie Yuri Tonina